Hola a tutti, benvenuti nel mio angolo dello svappo qui come sempre c'è il vostro DJ Vise che signori quest'oggi è tornato con una nuova recensione di un liquido lo so, era la settimana programmata ma per via di un marchio che mi ha detto di far uscire una recensione il 20 ho dovuto cambiare un pochettino la settimana con la prossima vedrete che non ci saranno cambiamenti ma partiamo subito perché quest'oggi andiamo a parlare di un liquido che mi ha inviato Sigarette Elettronica Shop quest'oggi andiamo a parlare di un liquido rinomato che è il First Pick questa è la nuova versione 20 ml quindi quando voi la acquisterete troverete una boccetta come questa da 20 ml con 10 ml di aroma al suo interno e voi dovrete semplicemente versare la seconda boccetta da 10 ml con il contenuto della glicerina vegetale per ottenere il 20 ml quindi ragazzi non perdiamo tempo andiamo a parlare del First Pick andiamo a parlare del First Pick Rebrand della linea Supreme essendo un tabaccoso guardate cosa vi sfodero prossimamente la recensione siamo pronti? ragazzi è un tabacco Virginia ma purtroppo e qui c'è una pecca secondo me che non riguarda la Roma ma riguarda la linea Supreme cari ragazzi della linea Supreme e scriveteci cosa c'è all'interno di questo liquido no? perché loro dicono che è un tabacco Virginia con delle note fruttate e cremose senza dire cosa c'è all'interno quindi diciamo che hanno voluto fare un po' i misteriosi per farvi scoprire a voi che aroma c'è all'interno ragazzi io al 90% mi ci giocherei una mano forse anche no potrei dirvi che all'interno c'è della banana perché è l'unico frutto che mi fa pensare anche un frutto cremoso quindi un primo impatto è anche aromaticamente direi banana con Virginia mescolati insieme non stanno affatto male anzi sono veramente molto buoni sono ben ammalgamati insieme per il semplice motivo che quando voi andate a inalare il vapore sentirete il Virginia e buttando fuori il vapore sentirete l'aroma della secondo me banana però devo dire che assieme ci stanno molto bene io con il Nautilus sto utilizzando due fori dell'aria aperti perché con 3-4 fori dell'aria andate a perdere il Virginia e sentirete solo l'aroma quindi preferisco avere un tiro contrastato per valorizzare il tabacco ragazzi per me Virginia e tabacco aromaticamente mi piacciono questo ovviamente è un liquido da utilizzare se vi piacciono varie tipologie di tabacchi spiego meglio se voi state volete smettere di fumare e volete avere un tiro e un gusto molto simile a quello di una sigaretta non andrete mai su un aroma del genere per il semplice motivo che a voi serve un tabacco puro ok che ricordi molto la sigaretta questo invece è per gli amanti di tabacosi aromatizzati in alternativa se avete appena smesso di fumare avete trovato il vostro liquido perfetto al sapore di paglia potrete avere un'alternativa con un tabacco virginia aromatizzato alla banana per dare un po' di stacco e cambiare il gusto in bocca con questo aroma della linea supreme devo dire che è veramente molto buono come tabacosi svaparlo a guancia mi piace non riuscirei mai a svaparlo con più di 20 watt secondo me perché poi spiccherebbe solo la banana e vi vado a dire che per me si prende un'otto e mezzo è un liquido all day il tabacco si sente bene anche se avrebbe preferito una lieve aromatizzazione più alta del virginia e la banana in vetro gusto e la banana è veramente ottima veramente un'ottima banana perché non è troppo aggressiva non spicca subito e solo dopo un paio di svapate secondo me senza che vi abbiano scritto cosa ci sia all'interno capirete che è la banana per me è un aroma da provare a tutti i costi sia per chi svapa tabacosi normalmente sia per chi non ha un tabacco e vuole avere un qualcosa di aromatizzato al tabacco la linea supreme in questo caso first pick rebrand è quello che fa per voi e se volete assolutamente acquistarlo vi lascio qui sotto il link in descrizione con il codice sconto che potete utilizzare per togliervi un 10% quindi mi raccomando qualsiasi acquisto volete fare utilizzatelo e provate comprate perché per 20 ml ci sta c'è anche la linea magari per chi l'ho già provato più grande ma voi provatelo lo stesso perché è veramente molto molto buono quindi ragazzi io andrei a concludere e però prima di concludere vado a dirvi di lasciare un bel mi piace al video condividere il video e condividere il canale attivare la campanella perché sarete sempre aggiornati su live video eccetera eccetera e in più di iscrivervi su instagram al canale alla pagina il mio angolo dello svapo 96 come scritto in questo momento qui sotto e quindi ragazzi io direi di andare a chiudere dal mio angolo dello svapo è tutto il vostro dicevise conclude quindi va a dirvi buon tabacco con banana a tutti ciao raga minchia che vapore a tutti Grazie.